Ed è importante che oggi tutti prestemo molta attenzione a quello che vi presenteremo perché tutti meritiamo di vivere una vita in dignità, a prescindere dal colore della pelle. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dio qui, non si sa mai, potrebbe servire in caso di un controllo. Fotocopia dell'originale, firmi sulla fotocopia che metto in fascicolo. Prende il timbro, preme nell'ichiostro e badum, timbra nel foglio. Badum, firmi qui, badum, firmi qui, badum, firmi qui, badum, firmi qui, badum, firmi qui. Una signora seduta dietro commenta col marito, ma chi sta vincendo? Chi è il più veloce? E io che esclavo, va là, va là, va era un atleta. Spaccava il culo a tutti, guardi, a occhi chiusi. Coppa nazionale extra comunitaria di rinnovo supercazzolato. Il razzismo non è soltanto una questione sociale, il razzismo pervade tutto il sistema economico in cui noi abbiamo una parte attiva. Parli di tutti i miei amici, perché ne ho tanti, ho tanti amici di colori diversi. E quindi avrei perso momenti, avrei perso scambi di idee, avrei perso momenti di ricchezza e di crescita per me stessa. Quindi andate oltre, andate oltre. Io ne t'ai mai connuo, ma mio guarda è pieno di ton sang. Ton pezzo noire a travers le champ ha réponduto. Il sango di tua sœur, la sœur di tuo lavoro, il lavoro di l'esclavaggio, l'esclavaggio. Afri, ti noi, Afri, è un pozzo che si accorge e si accorge sul pollo dell'umanità. Ma anche italiane che stanno aiutando molto la comunità seregalese della provincia di Trieste e tutta Italia. Mi chiamo qua tu? Sono italiana. Sapete perché vi dico che sono italiana? Perché mi hanno dato il passo a forza, sono cresciuta qua, ho messo su famiglia, ho fatto i figli qua. Adesso sto lavorando qua, versando i contenuti e ogni volta che dico che sono un afro italiano qualcuno gira la testa e ti chiamo. L'afro italiano non esiste. Per me esiste. Dobbiamo trasmettere amore a tutti i nostri bambini. Non basta abbracciarsi, non basta darci baci, basta trasmettere anche un piccolo sorriso. Vedete, il sorriso non è mai ferito nella bocca, mai. Io dirò, se c'è questa persona mi ha statata di dinerro di merda, io sorriso e direi che non è arrivato, ti vuoi l'educazione è giusta, e che ti devi educare ancora. E se voi sapere che il racismo non è nulla, ma è un'educazione, a basso agee. Per i nostri bambini, per i nostri bambini, per i nostri bambini, per i nostri bambini, per i nostri bambini. Che sono morte, assassinati o aggredite in Italia. Per motivi racisti. Volevamo che voi ripetete il nome quando Ermini dira C'è il Degnè. Ben Ali, Imanuele, Giovanni Zain, Prince Gerrit, Omar Fodera, Tu Omar Don, Sumaria Sacco, Imanuele Chirinangui, Víctori Huahuengue, Celo Valentino Gómez Cortez, Sam Modu Ediop, Moror Nike Abel Cule, Pedro Ciurad, Abba Abdul Diebre, Abdul Manan, Hamenson, Ali Gian, Giacomo Valente, Jerry Maslow, Ali Shalafi, Cano, Say His Name, Chiriniana di 23 anni, trovata seminuda, disemitarabolizzata, delle campagne del Presidente del Cara di Moro Mezzanone. Vittima di Razzismo Non possiamo e non vogliamo dimenticare le vittime che non sono state incluse nell'elenco appena letto. È da chiedersi cosa facciamo perché questo non accada più. E il suo nome quant'è S-A? Due. E la parola permesso quant'è S-A? Due. E la parola soggiorno quant'è G-A? Due. Bene signori, scadente tra 15 mesi. La prossima volta assicuratevi che il couscous sia caldo. E la parola soggiorno quant'è S-A? Due. E la parola soggiorno quant'è G-A? Due. E la parola soggiorno quant'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti.